si si sto arrivando salve la ringrazio molto ma la sua offerta non mi interessa minimamente sono già abbonato alla team quindi la prego di smetterla di rompere le scatole come scusami oddio mi scusi re pensavo che fossero quegli infami che mi chiamano di continuo per farmi cambiare abbonamento del wifi ridicolo plebeo che non sei altro potresti anche controllare il numero di chi ti chiama prima eh si in effetti avrei potuto farlo ora ascoltami non c'è tempo da perdere i nostri agenti segreti hanno scoperto che i men in black hanno costruito una base vicino al vostro villaggio i men in black ma quelli che danno la caccia agli alieni si si proprio quelli quegli infidi sono in combutta con la setta nera e hanno anche rubato un potente artefatto sconosciuto un nucleo energetico quindi raggiungi la loro base e distruggili lì troverai anche l'agente v che ti darà una mano ti mando le coordinate ok ricevuto arriverà anche a tuo aiuto il mio migliore agente l'agente pogo chi ciao tutti creeper io sono celofi e oggi siamo qui con il leggendario pogo doggo nella svanilla eccomi qua oggi siamo qui per fare un episodio specialissimo in cui finalmente lui girerà il mondo siamo qui infatti con l'episodio 50 è tanta roba che esplode addirittura l'episodio 50 che figata esatto l'ho tenuto proprio per te per fare questo episodio davvero speciale ci facciamo sparare aia si puoi sparare effettivamente confermo che funziona guarda guarda una magia io sotto gli occhiali ho degli altri occhiali oh mio dio no ma sei un grande proprio eh sì è la magia è la magia e poi li rimetto e sono degli occhiali sugli occhiali allora per prima cosa oggi ci facciamo un giro del mondo poi abbiamo una missione importante da portare a compiere in un dungeon no ti prego eh sì bisogna farlo ti prego no 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 ti prego questo è il pupazzo di neve anguria ma è la cosa più bella del mondo vai vai a vedere avvicinati ciao no sta scappando non scappare chiudi chiudi che io non posso chiudere ok quanto sei bello illustrami la tua la tua base fammi vedere che cosa hai costruito allora questa è la svilla la stravilla anzi perché la svilla stava nella prima stagione giusto giusto è una casa grossa che contiene tutte le mie cose grosse tipo hai anche una cucina sì bellissimo qui ci sono tutti gli oggetti questo qui è un inventario condiviso che si attacca direttamente a questa roba qua sotto guarda con dei tubi si collega quelle grosse ceste e quindi tutto lì e qua abbiamo la tecnologia scusami eh lì sotto c'è un drago sì ma c'è della carne di ciuppacabra sì ma come la vuoi se vuoi ce l'ha anche cotta eh aspetta che la c'è in qualche parte no vabbè bellissimo eh guarda c'è il frigo vediamo un po' accidenti mi sa che l'ho finita la devo cuocerla la mettiamo cuocerla ho preso un mestolino vabbè posso posso tenere con me la padella giusto per sì ma certo certo che puoi posso picchiarti con la padella non è molto efficace come arma ma puoi tu devi capire che io in questo momento sono tipo un bambino che prova i giochini all'asilo c'è una torcia messa a testa in giù ti prego sai come ho fatto ti svelo il segreto lo scotch non c'è mai pensato nessuno un po' di scotch biadesivo e via aspetta ti prego non dirmi che c'è davvero lo scotch biadesivo no scherzo ah ok no perché sai dopo le no vabbè il forno vabbè sì è la cosa più bella guarda aprirlo se prendi le tue cotolette di ciuppacabra voglio giocarlo anch'io eh beh ci sono tantissimi ti fatto che fa no l'hai mangiata cruda quella lì è cruda quindi ti ha maledetto quella cotta è questa ma io l'ho presa no è questa qui tieni eh sì un problema aspetta non so quanto dura l'effetto due secondi un attimo un attimo poco dopo è stato maledetto ok perfetto perfetto tieni ecco questa è giusta non ti tira le maledizioni buona ma è bellissimo ma come hai fatto è una mod che ti permette di mettere le gif su questo aggeggio qui al centro ma dietro c'è un piccolo easter egg e si qui non so chi sia stato ma qualcuno che è entrato nella serie qualche ospite e mi ha lasciato dei cartelli così e me ne sono accorto e si appunto un giorno è qui poi qua c'è un blocco di topo come bello eh perché c'è un blocco di topo perché non dovrebbe esserci un blocco di topo giusto giusto l'utilità nessuna il museo d'arte per prima cosa c'è il commento di gabby che mi ha lasciato sotto un video e io sto lì e lo ammiro ogni giorno ma che figata eh sì se vai dietro c'è c'è anche il tuo ovviamente ammiro anche quello un po di meno ma lo ammiro lo stesso poi c'è lui lui è un grande sto tizio qua in ogni singolo episodio della serie mi lascia la recensione è un mitico ma costruisci un botto bene comunque grazie poi no lo sapevo ho detto spero che cliccando esca scritto sì e ti vende le cose lui bellissimo qua ci sono le farm automatiche di legna ah sì sì queste queste ogni tanto in qualche modo le ho come si dice le ho esplorate il fatto dei bonsai qui non ci cadere è la rampa di lancio per il drago la rampa di lancio per il drago tu sei pazzo esce da qui tipo elicottero fa nel cielo proprio così dopo ovviamente devi farmelo vedere sì sì dopo ci andiamo ci si può andare in due qui c'è il fantastico museo horror qui qui volevo andare perché questa immagine è bellissima sì si vede che sono un grafico professionista qui c'è il bigliettaio viola palese può essere un po simile lo sapevo c'erano questi infami lo c'è anche lui c'è freddy eccoli eccoli qua c'è un po simile c'è un po godoggo fasullo dio bellissimo anche tu sei bellissimo hai visto aghi wagi niente di meno proprio lui oh no 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 posso ammazzarlo non ti consiglio di farlo però se vuoi puoi provare a tirargli un colpetto mi fido? vai vai prova è divertente adesso devi scappare no 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 ok scusa 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 ti voglio bene ti voglio bene chiudiamo le porte e andiamocene da qui vai passa bravo madonna che ansia è bruttissimo sto suonando i tamburelli sì questa è una mod musicale bellissima adesso mi aspetto che arrivi King Kong no purtroppo no però se fai i rituali giusti puoi evocare dei boss o darti degli effetti magici vari però ci smetto un po' a farli guarda se se vuoi possiamo provare a fare uno facile vai vai sono pronto tipo terraria sì esatto ti do un flauto tieni oddio arceus questa è la gilda qui ci sono le cose della gilda ci sono tanti personaggi vari skyrim vibes sì esatto tutti i personaggini che ti danno le quest e tante cose bellissimo bellissimo eh già e lì ci sono le montagne russe che adesso ti faccio provare ma prima aspetta magari c'è un piccolo nano che fa le armi eh sì devo evitare di premere eh no 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 ti dice di non disturbarlo se ci clicchi molto non disturbare mai un nano che lavora concordo vai ti schiaccio il pulsante eccolo guarda mamma mia ma è sta roba è la cosa più figa del mondo ma è super realistica sì davvero c'è tutto il personaggio che si piega esatto no vabbè è wow wow adesso vai sopra la prigione dovrebbero essere così esatto sulla prigione lì c'è una cosa enorme lunghissima cioè oddio 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 bellissimo 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 10 e lode a questa roba bene bene adesso è il momento di partire l'avventura shift vai giù e con un insalto vai su ah vabbè ma che stai a dire guarda come si chiama il drago la mia ma è enorme guarda come si chiama Marcello Marcello no vabbè è proprio lui eh esatto stupendo stupendo ok Marcello ho una padella quindi stai attento eh mi sa che te la mangia è un po' fortissimo oddio aspetta aspetta salgo vai salgo prima io e via no vabbè bellissimo fantastico sì davvero all'uovo del drago l'hai fatto schiudere sì l'ho trovato in un nido in giro per il mondo e l'ho fatto schiudere adesso andiamo di là verso la base nemica vai 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 sono pronto ad ucciderli tutti signore ci sono dei nemici che si stanno avvicinando alla base non ne usciranno vivi allora la nostra missione è devastare quel grosso edificio lì dentro ci sono i men in black i men in black perfetto quindi noi stiamo contro i buoni eh no qua sono cattivi in un universo alternativo loro sono i miei amici loro sono amici nostri ah sono tipo gli infiltrati dei men in black sì esatto se ci fai tasso destro loro ci parlano guarda parla con questo qui ciao amico lui la gente vi ciao poggo dogo come vedi la situazione è davvero grave i men in black hanno costruito un enorme campo a base estremamente vicino alla nostra base andate a sconfiggerli io e bibo vi aspettiamo qui al sicuro tranquillo ci pensiamo noi eh mamma mia andiamo andiamo oh ci stanno attaccando no 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 ok sto sparando sto sparando vai aspetta c'hanno un lanciamissili aspetta io prendo il mio arco che è più preciso andiamo sei bisogno quello con lanciamissili che è sì vero quello è un po' devastante sei bisogno di di cure dimmelo sì ok ti piccio con la mia padella ci sparano schiattaci ok attento al catrame buttaceli dentro oh scusa ti ho tirato una volta chissà se questa torre contiene dei golosi segreti secondo me sì ci sono dei laser ma se posso ah fanno male fanno male ok io li salterei oh ahia mi ha fatto male lo stesso ahia eh sì allora entriamo dalla porta principale aspetta che lo metto di guardia perfetto ho messo l'amongas di guardia ottimo ottimo aspetta aspetta attenzione scherzavo scherzavo eh facciamoli passare dal laser vediamo se ci passano sono molto intelligenti picchial picchiali eh sono scarsi per noi eh no per me no fa male dici ok uno è andato ma che mi fanno parecchio male dobbiamo essere più tattici ok sfondiamoli proprio la finestra che non se l'aspettano tu spacca e io gli sparo vai 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 fuoco 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 oddio c'è di nuovo quello picchia 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 ok se ne sono scappati quelli da codardi hanno delle armi vai li svaliggiamo oh no non ho la teleallarme picchia spara no ok è andato è andato bene mangio un po' che qua sono forti questi tizi vediamo munizioni hai asciutto i tuoi panini qui dentro tieni una bubble gun una bubble gun no ma cos'è ma cos'è ma cos'è wow io voglio lo smoking però guarda bellissimo eh beh non protegge tantissimo però è bello me lo porto via oh no scusa peccato te aiuto resisti ok oh sono tossi questi aspetta che tiro fuori lo scudo ok sono tanti sono tanti sono un botto forti sono un botto forti quello c'è un cappello mori ok tieni ok schiattaci ok bene bene dio quanto ferro hanno un sacco di ferro sfuso vai ruba ruba bene vuoi degli occhiali belli si li ho trovati eccoli no guarda che belli poggo ultrapotenziato madonna ma quant'è luna ultraestinto è gigante è vero è grosse ecco lì ecco lì eccomi ah arrivano ok ma qua ci sono degli alieni e beh certo mori ci sono i men in black ci sono anche gli alieni li hanno rapiti aspetta no buono è buono sei buono ok bevo una pozzoncina di rigenerazione che ho rubato sti qui oh che li spacchi così ah ma questo sta seduto ciao amico ma è mica spugna 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 perché dice spugna spugna è scappato abbiamo causato un'invasione aliena salve umano salve umano proprio umano no però ok ma guarda che ci sono i bagni i bagni mori è vero questa sarà la sala dei bagni stiamo attaccando i bagni ok ma questo è seduto sul bagno ma dai perché se l'è presa male se l'è presa molto male ma infatti scusa voi ci attaccate posso sedermi anch'io sul bagno bellissimo certo c'è anche un pozzante guardare sto facendo le mie cosine eh sì potentissimo aspetta che vi faccio anche una bella doccia si va che qua sono tutti sudati dopo aver combattuto così tanto oddio penso che siamo quasi alla fine sì guarda siamo in altissimo oh ce l'hanno tutti con te ti difendo io guarda è buono ok uno è andato aspetta che sparo questo ok oh un altro cappiandino perché mangio del pane? sì sì curati questi ci menano se no ok no che ho fatto? ma qua c'è un occhio eh infatti l'hai visto? è tipo Sauron del signore degli arelli sì è vero l'occhio di Sauron ok occhio? occhio sei libero stiamo liberando degli alieni mortali io ti vedo no mi metti ansia non guardarmi più oddio ok andiamocene oh c'è un'altra mila d'oro lì dai secondo me siamo più o meno in cima ormai oh qua c'è qualcosa di strano eh c'è una specie di che caspita succede? Marcello ma sei scemo Marcello ma che ci fai qua? ma dopo che spavento stavano bullizzando ok bene come siamo messi a vita? oddio serve un codice codice? cerchiamolo secondo me questi qua l'avranno messo in giro 23891 messaggio per Gigi brutto Iota visto che te lo dimentichi sempre te lo scrivo qua ok Gigi 23891 vediamo sì 23891 funziona? funziona! mamma mia che tecnologia quindi siamo alla fine ormai eh non ci credo ma il grande boss oh oddio 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 stai dietro di me ho lo scudo io eh sì sì fa leggermente male il grande boss è lì stavano guardando un filmato di un piccolo cane che balla maledetti ti stavano spiando sei te quello oh il mio scudo si sta spaccando e c'è anche Shrek ah mangia sto formaggio perché non riesco a mangiare il formaggio sto per morire sto per morire aia resisti ho strength lo picchio io aiuto ok sono morto no aspetta ti vengo ad aiutare lo picchio resisti eh no il boss il boss il boss meno male che ho sto scudo e meno male che ho trovato anche strength dai ancora un paio di colpi sto qui ci va giù mori ok sì manca minuti e cinquanta arrivo aspetta che c'è ok quello non ci ha visto per fortuna mamma mia qua ci stavi per rimettere la vita eh mamma mia maledetto maledetto spacco di botte ci abbiamo fatta mamma mia è stato duro eh è stato difficile cos'è sto a fare questo mi sa che è quello che ci dobbiamo portare vi faccio vedere cos'è Opinium Core io rubo nel dubbio è tipo un lingotto vabbè io me lo prendo stai guardando la televisione stavo guardando un attimo la televisione c'è Shrek sì è bellissimo golosi diamanti che c'è sopra? dammene un po' a me però abbiamo fatto il lavoro entrambi cosa c'è sopra ci danziano i missili no 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 uccidili uccidili arrivano arrivano oddio ma guarda quanti ce n'erano si stanno facendo esplodere vicenda questo è un vantaggio e infatti hanno dato ok uno è morto ma quanti su su ok aspetta mangio gli orsetti gommosi vai spicchiali picchiali lo posso fare mori è caduto giù stupido perfetto suppongo sia morto fa vedere un po' qui c'è l'elicottero abbiamo salvato il mondo tento non cadere che mi sa che qua siamo abbastanza in alto no stavo vedendo se c'era tipo una pozza d'acqua mi volevo buttare giù vuoi fare un MLG bucket in modo cinematografico io butto il secchio lo riprendo al volo ok e lo piazzo vai prova no 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 non ha funzionato molto non ha funzionato molto bene arrivo io tranquillo tanto il danno nella caduta non ce l'ho quindi tieni perché ho tantissimi upgrade meravigliosi ok è arrivato anche il giorno e la missione è compiuta buongiorno c'è un piccolo insetto schifoso ti ammazzo poverino era lì innocente era la creatura più tranquilla del mondo forse va bene che caspita è quella cosa cos'è ma non so è un'armatura dei tizi che ho trovato sei fighissimo intanto là ci sono alieni strani che girano va bene ho notato nella svanilla queste cose sono normalissime non ti fare domande abbastanza sì ok possiamo tornare a casa da eroi bene ragazzi direi che possiamo chiudere qua è stato lo speciale più speciale che abbia mai fatto vi ringrazio un casino poggo per aver partecipato davvero non ci è problemi non lo ringrazierò mai abbastanza detto questo passate al suo canale anche se non che dobbia bisogno delle mie sponsorizzazioni ma vabbè no vabbè e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.